Siracusa, 45enne sri-lanchese in possesso di armi improprio e minacce e un giovane viola domiciliari. Denunciati. Un contromano nella via che conduce un'ospedale in possesso di armi improprio. Un uomo di 45 anni, originario dello Sri Lanka, è stato denunciato dagli agenti della volante per possesso e giustificato di arnesi atti a offendere per minacce. I poliziotti sono stati chiamati dalla guardia particolare girata in servizio presso la portineria dell'ospedale di Siracusa che notando lo straniero procedere a bordo di un circomotore controsenso in via testaferrata lo riprendeva per tale violazione al codice della strada ma subiva la violenta reazione dello stesso che cercava di aggredirlo. Gli uomini della volante denunciavano allo Sri Lanchese anche per non avere al seguito un documento di riconoscimento e il permesso di soggiorno e gli notificavano altresì una denuncia per il reato di danneggiamento perpetrato a Messina e segnalato da personale della polizia ferroviaria. Inoltre agente della volante hanno denunciato un giovane di 19 anni per avere violato gli obblighi derivanti dall'affidamento ai servizi sociali cui è sottoposto.